Per l'eccessivo lavoro, il professor Andriei Vasilievich Kovrin si era ammalato di nervi, non si curava. Solo una volta trovandosi in compagnia di un amico dottore, tra un bicchiere e l'altro, incidentalmente, gli parlò del proprio male, e questi gli consigliò di passare la primavera e l'estate in campagna. Giusto a proposito, in quei giorni ricevette una lunga lettera da Tania Pesoccaia, che lo invitava a passare qualche tempo a Borisovka, e così decise che davvero aveva bisogno di muoversi un po'. Anzitutto, si era in aprile, si recò nelle proprietà della famiglia Kovrinka, e vi trascorse in solitudine tre settimane. Poi, aspettato che migliorassero le strade, si mise in vettura e si recò dal suo ex tutore ed educatore Pesocchi, un orticultore ben noto in Russia. Da Kovrinka a Borisovka, dove vivevano i Pesocchi, non c'erano più di settanta verste, e andare per la morbida strada primaverile in una comoda carrozza a molle, fu un vero godimento. La casa dei Pesocchi era enorme, con colonne e leoni dai quali si erano staccati gli stucchi e il servitore in livrea, all'ingresso principale. L'antico parco, tetro e severo tagliato all'inglese, si stendeva per poco meno di una versta dalla casa al fiume, e qui finiva su una riva argillosa, rapida, a picco, sulla quale crescevano dei pini con le radici scoperte simili a zampe pelose. Qui in basso, dove il luogo era più deserto, luccicava l'acqua e si ribravano le beccacce con un pigolio lamentoso. Nell'insieme l'effetto che produceva il luogo, era di una malinconia tetra, una malinconia da far venire voglia di scrivere una ballata. Un compenso intorno alla casa, nella corte e nel frutteto, insieme coi vivai occupava una trentina di desiatine, c'era un'aria d'allegrezza e di gioia di vivere, anche durante il cattivo tempo. Rose, meravigliose gigli e cameli e una varietà di tinte di tulipani, cominciando dal bianco candido a finir al nero fumo, in generale una tal ricchezza di fiori, quale Covrin non aveva avuto occasione di vedere in nessun altro posto. La primavera era ancora al principio, e la più lussureggiante magnificenza delle aiuole, era nascosta ancora nelle serre. Ma quel che già fioriva lungo i viali e qua e là nelle aiuole, bastava, a far sì che passeggiando per il giardino, ci si sentisse nel dominio dei colori teneri, specialmente nelle ore della mattina, quando su ogni fogliolina luccicava la rugiada. Nel giardino un aspetto pieno di vita, era il continuo movimento. Dalle prime ore del mattino fino alla sera, intorno agli alberi e cespugli nei viali e nelle aiuole, formicolava una quantità di gente con carriole, annaffiatoi, rastrelli. Covrin arrivò dai pesocchi alle dieci di sera. Trovò Tania e suo padre, Igor Semienic, in grande agitazione. Il cielo chiaro, stellato, e il termometro preannunziavano il gelo per la mattina dopo, e intanto il giardiniere Ivan Karlic era andato in città e non c'era altri di cui fidarsi. A cena si parlò solo del gelo della mattina seguente, e fu deciso che Tania non si sarebbe colicata, e a luna sarebbe andata in giardino a vedere se tutto fosse in ordine, e Igor Semienic si sarebbe alzato alle tre ed anche prima. Covrin passò con Tania tutta la sera e dopo mezzanotte andò con lei in giardino. Faceva freddo. Nella corte si sentiva già un forte odore di bruciato. Nel frutteto, che era chiamato il giardino commerciale e che dava ad Igor Semienic alcune migliaia di rubli di prodotto netto ogni anno, si stendeva proprio a livello della terra un fumo nero denso e pungente, che avvolgendo gli alberi salvava queste migliaia di rubli dal gelo. Gli alberi erano lì, in ordine, come su una scacchiera, e le loro file erano dritte e regolari come ranghi di soldati. Questa regolarità pedantesca e il fatto che tutti gli alberi erano della stessa altezza e avevano corone e rami del tutto uguali, rendevano il quadro uniforme e perfino noioso. Covrin e Tania andavano tra le file degli alberi, dove bruciavano delle piccole cadaste di letame, di paglia e di ogni specie di rifiuti. E di tanto in tanto incontravano operai che vagavano nel fumo come ombre. Erano fioriti soltanto i ciliesi, i susini e alcune specie di meli, ma tutto il giardino affondava nel fumo e solo nei pressi della serra covrin poter espirare a pieni polmoni. Già quando ero ragazzo starnutivo qui per il fumo, disse scrollando le spalle, ma ancora oggi non ho capito come questo fumo possa salvare dal gelo. Il fumo sostituisce le nuvole quando mancano, rispose Tania. E a che servono le nuvole? Col tempo scuro e nuvoloso non si produce il gelo della mattina. Ah, capisco. Egli rise e la prese per mano. Il largo viso di Tania, serio e tutto intirizzito, quelle sue ciglia sottili e nere, il babero del cappotto tirato su, che le impediva di muovere liberamente la testa, e tutta la sua persona magrolina, slanciata, con l'abito un po' tirato su per la rugiada, lo intenerivano. Dio mio, come siete cresciuta, sclamò. Quando andai via di qui l'ultima volta, cinque anni fa, eravate ancora bambina, eravate così magrolina, con delle gambe lunghe lunghe, portavate i capelli sciolti, indossavate un abitino corto e io vi stuzzicavo chiamandovi Cicogna. Che cosa fa il tempo? Sì, cinque anni, sospirò Tania, passata da allora molta acqua sotto i ponti. Ditemi, Andriei, incoscienza. Ella gli si rivolse con vivacità guardandolo fisso in faccia. Non siete più abituato a noi. Del resto, cosa vi vado mandando? Voi siete un uomo, vivete la vostra vita propria, interessante, siete una celebrità? Così naturale che si diventi estranei? Comunque sì, Andriei, io vorrei che voi ci consideraste persone di famiglia. Ne abbiamo il diritto. Ma certamente, Tania. Parola d'onore? Sì, parola d'onore. Oggi vi siete meravigliato che abbiamo tante vostre fotografie. Ma voi lo sapete, mio padre, vi adora. Qualche volta mi sembra che egli voglia più bene a voi che a me. È superbo di voi. Siete un dotto, un uomo fuori del comune. Avete fatto una brillante carriera. Ed egli è convinto che voi dovete tutto ciò alla educazione che egli vi ha dato. Io non gli impedisco certo di pensare così, sia pure. Cominciava a far giorno. Nell'aria le nuvole di fumo e le cime degli alberi cominciavano a delinearsi chiaramente. Gli usignoli cantavano e dai campi veniva il grido delle quaglie. Ma è tempo di andare a dormire, disse Tania. Fa anche freddo. Ella lo prese sotto braccio. Grazie, Andriuscia, di essere venuto. Noi non abbiamo da offrirvi che dei conoscenti non interessanti. Non abbiamo che giardino, giardino, giardino e niente di più. Alberi, mezzi alberi. Ella rise. Meli di tutte le spezie e di tutti gli innesti. Tutta la nostra vita è passata nel giardino. Io persino in sogno non vedo che meli e peri. Certo, tutto ciò è bello e utile. Ma qualche volta vorrei pure qualche altra cosa, per variare. Mi ricordo quando voi venivate da noi per le vacanze. O anche così, senz'altro, in casa tutto diventava più fresco e luminoso. Come quando si levavano le foderine al lampadario e ai mobili. Io ero allora una ragazzina, eppure capivo. Ella parlò a lungo e con gran sentimento. Senza ragione a lui venne improvvisamente alla mente che col passare degli anni avrebbe potuto legarsi a questa piccola, debole creatura loquace. Lasciarsi attirare e innamorarsi. E la loro situazione era tanto naturale possibile. Questo pensiero lo intenerì e lo confuse. Si chinò verso quel caro visino agitato e canticchiò pian piano Io amo, Onegin, non ve lo nascondo. Tatiana, più d'ogni altra cosa al mondo. Quando arrivarono a casa, Egor Semienitz si era alzato. Kovrin non aveva voglia di dormire. Giacchierò col vecchio e ritornò con lui in giardino. Egor Semienitz era di alta statura, largo di spalle, panciuto, e soffriva d'asma. Ma camminava sempre così svelto che era difficile tenergli dietro. Il suo aspetto era quello di un uomo inquieto. Si affrettava sempre verso qualche posto con tale espressione, come se, ritardando egli di un solo minuto, tutto dovesse andare in rovina. Ecco, amico mio, com'è la storia, cominciò fermandosi per prendere fiato. Sulla superficie della terra, come vedi, c'è il gelo. Ma se alzi il termometro di due sazen da terra, è già caldo. Da che deriva? Veramente non so, disse Kovrin e rise. Non si può sapere tutto, si capisce. Per quanto ampia possa essere la mente, non ci si può trovare posto. Tu ti occupi sempre più di tutto di filosofia. Sì, insegno psicologia, ma mi occupo in generale di filosofia. E non ti viene a noia. Al contrario, è di questo solo che vivo. Che Dio ti aiuti, continuò Egor Semienitz, Egor Semienitz, accarezzandosi sopra pensiero le basette bianche. Dio ti aiuti, io sono molto, molto contento di te, amico mio. Ma improvvisamente tese l'orecchio e fatta una faccia terribile, corse da una parte e presto scomparve dietro agli alberi, nelle nuvole di fumo. Chi ha legato il cavallo al melo? Si sentì, un suo grido così disperato da strappare il cuore. Chi è questo furfante, questa canaglia che ha osato di attaccare il cavallo al melo? Dio mio, Dio mio! Guastato, lasciato gelare, rovinato, squassato, Mandato in rovina il giardino, distrutto il giardino, Dio mio! Quando ritornò da Kovrin, il suo viso aveva un'espressione di abbattimento e di offesa. Cosa ci vuoi fare con questa gente maledetta? Disse con voce piagnucolosa, allargando le braccia. Questa notte Stepka ha portato il letame e ha attaccato il cavallo al melo. Il furfante ha girato così strette le sue redinacce che la corteccia si è rotta in tre punti. Ferrazza! Gli parlo, e lui? Lui sta lì come uno stupido e batte solo gli occhi. Impiccarlo sarebbe poco. Calmatosi, abbracciò Kovrin e lo baciò su una guancia. Va bene, Dio sia con te, Dio sia con te, borbottò ancora. Sono molto contento che tu sia venuto, indicibilmente contento ti ringrazio. Poi, sempre con quel suo passo svelto e l'aria preoccupata, fece il giro del giardino e mostrò al suo ex pupillo tutte le serre, le stufe, le rimesse principali e i due alveari che gli chiamava il miracolo del nostro secolo. Mentre così camminavano, era sorto il sole ed il giardino si era riempito di luce. Cominciava a far caldo. Presentendo una giornata chiara, allegra, lunga, Kovrin si ricordò che si era ancora soltanto al principio di maggio e che egli aveva davanti a sé tutta l'estate. Così chiara, allegra e lunga e improvvisamente sentì nel petto un senso fresco di gioia, quale aveva provato solo nella fanciullezza, quando correva qui in questo stesso giardino. Ed anche egli abbracciò il vecchio e lo baciò teneramente. Tutti e due commossi ritornarono in casa e bevettero il tè, nelle vecchie tazze di porcellana, e presero la panna e le saporose ciambelle fatte con latte, burro e uova, e queste piccolezze fecero di nuovo ricordare a Kovrin la sua infanzia e la sua giovinezza. Il magnifico presente e le impressioni del passato, risvegliatesi, si fusero insieme. L'anima sua ne fu come ingombra, ma con un senso di piacere. Aspettò che si svegliasse Tania ed insieme con lei beve il caffè. Passeggiò, poi si ritirò in camera e si mise al lavoro. Leggeva attentamente, faceva annotazioni e qualche volta alzava gli occhi per gettare uno sguardo verso la finestra aperta o sui fiori freschi, ancora umidi di rugiada, che stavano nei vasi sulla tavola. E gli sembrava che ogni vena, in lui, tremasse e gli si gonfiasse dal piacere. Era fresco ed allegro. Parlava molto, beveva vino e fumava sigari costosi. Dai pesocchi, spesso, se non ogni giorno, venivano delle signorine del vicinato che suonavano il piano e cantavano insieme con Tania. Qualche volta veniva un giovanotto, anche lui del vicinato, che suonava bene il violino. Kovrin ascoltava la musica e il canto con avidità ed essi gli producevano un effetto di spossamento che si manifestava fisicamente facendogli chiudere gli occhi e chinare il capo da un lato. Una volta, dopo il tè della sera, sedeva al balcone e leggeva. Nel salotto Tania, con voce di soprano, una delle signorine con la voce di contralto e il giovane violinista, provavano la nota serenata di Braga. Kovrin cercò di afferrare le parole. Erano in russo, ma non riusciva a capirne il senso. Solo quando alla fine, lasciato il libro, ascoltò più attentamente, capì? Una fanciulla malata d'immaginazione sente di notte nel giardino dei suoni misteriosi. Belli e a tal punto strani che ella deve riconoscere in essi una armonia divina, incomprensibile a noi mortali, e che perciò rivola nuovamente in cielo. A Kovrin cominciarono a chiudersi gli occhi. Si alzò, e in un vero stato di spossamento entrò nel salotto, poi nel salone. Quando i canti cessarono, egli prese Tania sotto il braccio ed insieme con lei andò al balcone. «Eda stamattina che mi viene sempre al pensiero una leggenda», disse egli. «Non ricordo se l'ho letta in un libro o l'ho sentita raccontare, ma è una leggenda strana, che non ha proprio niente di razionale». Cominciamo col dire che non brilla troppo per chiarezza. Mille anni fa un monaco vestito di nero attraversava un deserto, in qualche luogo in Siria o in Arabia. A qualche miglia da quel luogo dove egli passava, i pescatori videro un altro monaco nero, che lentamente si muoveva sulla superficie del lago. Questo secondo monaco era un miraggio. Adesso, dimenticatevi di tutte le leggi dell'ottica, di cui a quanto pare la leggenda non tiene nessun conto, e ascoltate il resto. Dal miraggio si produsse un secondo miraggio, da questo un terzo, così che l'immagine del monaco nero si ripeteva senza fine da uno strato all'altro dell'atmosfera. Fu visto in Africa, in Spagna, in India, nel lontano nord. Alla fine uscì dai confini dell'atmosfera terrestre, e adesso erra per tutto l'universo, non ricadendo mai in condizioni tali che lo facciano dissolvere. Forse, in questo momento, lo vedono in qualche luogo in Marte, o in qualche stella, della Croce del Sud. Ma, mia cara, l'essenza, il nucleo della leggenda, consiste in questo, che proprio mille anni dopo che il monaco è passato per il deserto, il miraggio si deve ripetere nell'atmosfera terrestre, e mostrarsi alle genti. E questi mille anni stanno lì, lì per scadere. Secondo il senso della leggenda, noi dobbiamo aspettarci il monaco nero da un giorno all'altro. Strano miraggio, disse Tania, a cui la leggenda non era piaciuta. Ma, il più straordinario, disse Covrin, ridendo, è che io non riesco a ricordarmi in che modo questa leggenda mi è venuta in testa. L'ho letta, e dove? L'ho sentita raccontare. Oppure, il monaco nero mi è apparso in sogno. Vi giuro che non mi ricordo. Ma essa mi interessa. È tutto il giorno che ci penso. Lasciata Tania con gli ospiti, uscì di casa e sopra pensiero passeggiò lungo le aiuole. Il sole già tramontava. Dai fiori, allora allora innaffiati, emanava un profumo umido, irritante. In casa avevano ripreso a cantare, e da lontano il violino produceva l'impressione di una voce umana. Covrin, forzando il pensiero per ricordarsi dove avesse sentita o letta la leggenda, si volse lentamente verso il parco e, quasi senza accorgersene, arrivò al fiume. Per il sentiero che correva sulla ripida riva del fiume, davanti alle radici scoperte, egli scese fino all'acqua, disturbando le beccacce e mettendo in fuga le anatre. Sulle cime degli oscuri pini, qua e là, ancora mandavano dei riflessi gli ultimi raggi del sole calante. Ma, sulla superficie del fiume, era già notte del tutto. Covrin passò dall'altra parte, su dei pezzi di lava, attraverso il fiume. Davanti a lui si stendeva un largo campo coperto di segala fresca, non ancora fiorita. Non abitazioni umane né anima viva in giro. Sembra che il sentiero debba condurre chi lo percorre proprio là, in quel punto ignoto e misterioso, dove orora si è immerso il sole, e vasto, grandioso, fiammeggia il crepuscolo della sera. Come tutto è spazioso, libero e tranquillo, qui, pensò Covrin, seguendo il sentiero, sembra che tutto il mondo guardi verso di me e aspetti nascosto che io lo comprenda. Ed ecco che sulla segala passarono come delle onde, e il venticello leggero della sera accarezzò delicatamente la sua testa scoperta. Dopo un momento il vento soffiò di nuovo, ma con più forza. Il grano stormì, e si sentì di più il mormorio sordo dei pini. Covrin si fermò sorpreso. All'orizzonte, come un vortice o un tifone, si sollevava da terra verso il cielo una grande colonna nera. I suoi contorni non erano chiari, ma, fin dal primo istante fu evidente che essa non stava ferma in un punto, ma si muoveva, con una terribile rapidità, avanzando direttamente su Covrin, e quanto più si avvicinava, tanto più si faceva piccola e chiara. Covrin si gettò da parte, nella segala, per lasciarle la via, e fece appena in tempo. Un monaco in abito nero, col capo canuto e le ciglia nere, con le braccia incrociate sul petto, passò fulmineamente davanti a lui. I suoi piedi scalzi non toccavano terra. Era già lontano un tres a zen, quando, guardò verso Covrin, gli fece cenno col capo e gli sorrisse carezzevolmente e insieme furbescamente. Ma che faccia pallida, terribilmente pallida e magra! Ricominciando a crescere, attraversò di volo il fiume, impercettibilmente urtò contro la riva argillosa e contro i pini, e passando fra essi scomparve, come fumo. Ah, vedete dunque, borbottò Covrin, vuoi dire che nella leggenda c'è della verità. Senza sforzarsi di spiegare lo strano fenomeno, contento solo che gli era stato dato di vedere così da vicino e così chiaramente non soltanto l'abito nero, ma perfino il viso e gli occhi del monaco, piacevolmente agitato, ritornò a casa. Nel parco e nel giardino passavano tranquillamente gli operai. In casa si sonava, tutto ciò voleva dire che egli solo aveva visto il monaco. Aveva un gran desiderio di raccontare tutto a Tania e ad Egor Samienic, ma riflettè che essi probabilmente avrebbero considerato le sue parole come un delirio, e ciò lo spaventò. Meglio dunque tacere. Rise forte, cantò, ballò la mazzurca, si sentì allegro, e tutti gli ospiti e Tania trovarono che oggi nel suo viso c'era qualche cosa di speciale, di luminoso, di entusiastico, e che egli era molto interessante. Dopo cena, quando gli ospiti se ne furono andati, egli rientrò in camera e si sdraiò sul divano. Voleva pensare al monaco, ma dopo un momento entrò Tania. «Andriuscia, leggete un po' gli articoli di papà», disse El, porgendogli un fascio di opuscoli e di ritagli. «Sono articoli bellissimi!» «Papà scrive eccellentemente!» «Sì, sì, proprio eccellentemente», disse Igor Semienich, entrando dietro di lei e ridendo forzatamente. Si sentiva imbarazzato. «Ma senti a me, non li leggere. Del resto, se hai voglia di dormire, allora leggili pure. Un ottimo specifico contro l'insonnia. Per me sono articoli magnifici di Setania con profonda convinzione. Leggeteli, Andruscia, e convincete papà a scrivere più spesso. Egli potrebbe scrivere un intero corso di orticoltura». Igor Semienich rise forzatamente, arrossì e cominciò a dire delle frasi simili a quelle che dicono comunemente gli autori confusi. Alla fine si arrese. «In ogni caso, leggi prima l'articolo di Goucher e questi articoletti russi», murmolò sfogliando gli opuscoli con le mani tremanti. «Altrimenti non capirai nulla. Prima di leggere le mie obiezioni, è necessario conoscere gli argomenti ai quali le faccio. Del resto, sciocchezze e cose noiose. Ma è tempo da andare a dormire, mi pare». Tania uscì. Igor Semienich sedette sul divano accanto a Kovrin e sospirò profondamente. «Sì, amico mio», cominciò dopo un po' di silenzio. «È così, sì, professore mio caro. Sì, scrivo degli articoli, prendo parte alle esposizioni e ricevo delle medaglie. Da Pesocchi, si dice, ci sono delle mele grosse come una testa. Pesocchi, si dice, col giardino si è fatto un patrimonio». In una parola, ricco e glorioso Cocubei. «Ma si potrebbe domandare, a che è tutto questo?» «Ma si potrebbe domandare, a che è tutto questo?» «Il giardino, in verità, è meraviglioso. Un vero giardino modello. Non è un giardino. È una vera istituzione di alta importanza statale. Perché è, per così dire, un gradino verso una nuova era dell'economia e dell'industria russa. Ma a che scopo? Con quale fine?» «Ma la cosa parla di per sé?» «No, non in questo senso. Voglio dire, che ne sarà del giardino quando io sarò morto?» Nello stato in cui lo vedi adesso, non resterà senza di me neppure un mese. Tutto il segreto del successo non è nell'essere il giardino grande e nell'esserci molti operai, ma nel fatto che io amo la mia professione, capisci? L'amo, forse più di me stesso. Tu mi guardi, io faccio tutto da me. Le potature da me, le piantagioni da me, tutto da me. Quando mi si aiuta, io sono geloso e mi irrito fino a diventare rude. Tutto il segreto è nell'amore, cioè nell'occhio acuto del padrone e nelle mani del padrone. In quel sentimento per cui se vai per un'oretta in qualche posto, senti che il cuore non sta in pace. Hai paura che non succeda qualcosa nel giardino? Quando io morirò, chi se ne occuperà? Chi lavorerà? Il giardiniere? Gli operai? Credi? Ecco cosa ti dico io, amico caro. Il più grande nemico nella nostra professione non è né la lepre, né il maggiolino, né il gelo, ma la mano di un estraneo. E Tania? Domandò Covrin, ridendo. Impossibile che la sia più dannosa della lepre. E la ama. E capisce la vostra professione. Sì, e la lama e la capisce. Se dopo la mia morte il giardino restasse a lei, ed ella fosse la padrona, certo non potrei augurarmi niente di meglio. Ma se Dio non lo voglia, si marita. Ruminò Egor Semienic e guardò spaventato Covrin. Ecco, ecco la questione. Piglia e marito vengono i figli e di pensare al giardino non c'è nemmeno il tempo. Quello che temo più di tutto, sposa un giovinotto qualunque e questi per ingordicia, dà il giardino in affitto a delle mercantesse, e tutto va in rovina nel primo anno. Le donne, nel nostro mestiere, sono il flagello di Dio. Egor Semienic sospirò e restò un po' in silenzio. Forse questo è egoismo, riprese, ma io parlo a cuore aperto. Non voglio che Tania pigli marito, ho paura. Ecco, ora viene da noi uno zerbinotto che strimpella il violino. Lo so che Tania non lo sposerebbe, lo so benissimo, ma io non lo posso vedere. In generale, amico mio, io sono un grande stravagante, lo confesso. Egor Semienic si alzò, e tutto agitato andò su e giù per la camera. Si vedeva chiaramente che avrebbe voluto dire qualcosa di molto importante, ma non sapeva risolversi. Io ti amo caldamente, ti parlerò con tutta franchezza, si decise alla fine, ficcando si rimani in tasca. In certe questioni delicate io mi comporto con molta semplicità, e dico direttamente quello che penso e non posso sopportare i cosiddetti pensieri segreti. Parlo francamente. Tu sei l'unico uomo al quale non avrai paura di dare mia figlia. Tu sei un uomo intelligente, di cuore, e non lasceresti andare in rovina tutta l'opera mia. La ragione principale è che io ti amo come un figlio. Io sono superbo di te. Se fra te e Tania si intrecciasse un romanzo, e che? Io ne sarei molto contento e perfino felice. Lo dico apertamente, senza girigogoli, come un uomo d'onore. Covril rise. Egor Semienici aprì la porta per andare via, e si fermò sulla soglia. Se tu e Tania aveste un bambino, io ne farei un orticoltore, disse dopo aver riflettuto. Del resto, sono tutte fantasticherie inutili. Buonanotte. Rimasto solo, Covril si straiò più comodamente e cominciò a guardare gli articoli. Uno era intitolato, della coltivazione a zone, un altro, alcune parole a proposito della notizia del signor Z intorno alla lavorazione del terreno per fare un giardino, e altri di questo genere. Ma quale tono agitato, diseguale, quale impeto nervoso, quasi immorboso. Ecco un articolo col più pacifico titolo di questo mondo, e il più indifferente dei contenuti. Vi si parla di una qualità di melo russo. Megor Semienici lo comincia con Audiatur Alterapars, e lo finisce con Sapientis Satis, e tra questi motti tutta una fontana di svariate parole velenose all'indirizzo della dotta ignoranza dei nostri patentati signori orticoltori, che guardano la natura dall'altezza delle loro cattedre. O del signor Gauchet, il cui successo è creato dai profani e dai dilettanti, e qui un rimpianto fuori posto, stiracchiato e non sincero, che non sia più possibile passare per le verghe ai contadini che rubano le frutta e che per poter rubare stroncano gli alberi. La cosa è bella, cara e sana, ma c'è anche qui passione e guerra, pensava Covri. «Certo, dappertutto e in qualunque campo, gli uomini di dè sono nervosi e si distinguono per il loro grado di sensibilità. Forse è necessario che sia così». Si ricordò di Tania, a cui piacevano tanto gli articoli di Egors e Mienic. «Di piccola statura, pallida, magra, tanto che li si vedevano le clavicole, gli occhi grandi, oscuri, intelligenti, come se guardassero sempre in qualche posto e cercassero qualche cosa. Andatura come quella del padre, passi piccoli e affrettati. Parlamonto ama discutere e discutendo accompagna ogni frase, anche insignificante, con una mimica espressiva e gesticola. Probabilmente Tania è nervosa al massimo grado». Covrin si rimise a leggere ma non capiva nulla e gettò via il libro. «Una eccitazione piacevole, quella stessa in cui poco prima aveva ballato la mazzurca e ascoltato la musica. Adesso lo tormentava e richiamava in lui una quantità di pensieri. Si alzò e cominciò ad andare su e giù per la camera, pensando al monaco nero. Gli venne in mente che se questo strano monaco soprannaturale era stato visto solamente da lui, ciò voleva dire che egli era già malato al punto ad avere delle allucinazioni. Questa considerazione lo spaventò, ma non a lungo. «Però mi sento bene e non faccio male a nessuno. Vuol dire che nelle mie allucinazioni non c'è niente di male». Pensò e si sentì di nuovo bene. Sedette sul divano, si prese la testa fra le mani, trattenendo una incomprensibile gioia che riempiva tutto il suo essere. Poi di nuovo andò su e giù per la camera e infine si rimise al lavoro. Ma i pensieri che trovava nel libro non lo soddisfacevano. «Avrebbe voluto qualche cosa di gigantesco, di smisurato, di sorprendente». Verso l'alba Covrin si spogliò e sfogliatamente si sdraiò sul letto. Era necessario dormire. Alla fine, quando sentì i passi di Egor Semienice che usciva in giardino, Covrin sonò e ordinò al servitore di portargli del vino. Bevette con piacere qualche bicchierino di Lafitte. Poi si coprì fino alla testa. La coscienza gli si annebbiò e si addormentò. Egor Semienice e Tania si bistizzavano spesso e si dicevano cose spiacevoli. Una mattina dopo aver litigato per qualche cosa, Tania si mise a piangere e se ne andò in camera sua. Non uscì né per il pranzo né per il tè. Egor Semienice da principio camminò con solennità, impettito come se desiderasse dare ad intendere che per lui gli interessi della giustizia e dell'ordine fossero le cose più alte di tutto nel mondo. Ma presto non resistette più e si avvidì. Si aggirava triste nel parco, sospirando continuamente. «Ah, Dio mio, Dio mio!» A pranzo non toccò boccone. Alla fine, con aria di un colpevole, tormentato dalla coscienza, picchiò alla porta chiusa, sbarrata, e chiamò timidamente «Tania! Tania!» Di dietro la porta gli rispose una voce debole, sfinita dalle lacrime ma nello stesso tempo risoluta. «Lasciatemi, vi prego!» L'abbattimento dei padroni si rifletteva su tutta la casa, perfino sulle persone che lavoravano nel giardino. Covring era sprofondato nel lavoro che prendeva tutto il suo interesse, ma alla fine anche egli cominciò ad annoiarsi e a sentirsi imbarazzato. Per far passare in qualche modo il cattivo umore generale, decise di far da pacere e verso sera picchiò all'uscio di Tania. Fu lasciato entrare. «Ah, che vergogna!» Cominciò scherzosamente guardando meravigliato il viso triste di Tania, con le trecce del pianto e coperto di macchie rosse. «Ma è proprio una cosa così seria! Via, via!» «Ma se voi sapeste come mi tormenta!» disse ella, e dai suoi grandi occhi sgorgarono abbondanti lacrime ardenti. Egli mi ha tormentato, continuò torcendosi le mani. «Io non ho detto nulla, nulla! Ho solo detto che non è necessario tenere operai superflui, se è possibile, quando si vuole avere dei giornalieri così...» «Sì, è tutta una settimana che gli operai non fanno niente. Io... io ho detto solo questo e lui ha cominciato a gridare, a soffocarmi di parole, a offendermi, a insultarmi, perché...» «Basta, basta!» disse Covrin, accomodandole i capelli. «Avete questionato, avete pianto. Basta! Non bisogna arrabbiarsi tanto a lungo. Non è bello, tanto più che egli vi ama infinitamente. Egli... egli mi ha rovinato tutta la vita!» continuava Tania singhiozzando. «Non sento che offese e insulti! Egli mi considera superflua in casa sua. E che... ha ragione. Domani me ne vado di qui. Vado a farla telegrafista. Aspettate! Via, via! Non bisogna piangere, Tania. Non bisogna, cara. Voi siete tutti e due irritabili, eccitabili e tutti e due colpevoli. Andiamo, vi farò fare la pace.» Covrin parlava con tenerezza e commozione. E Tania continuava a piangere, con le spalle che tremavano agli scoppi di pianto e torcendo le mani come se fosse stata colpita proprio da una sventura terribile. Egli ne aveva pietà, tanto più in quanto che la causa del dolore, pur non essendo grave, la faceva soffrire profondamente. Delle piccolezze bastavano dunque per rendere infelice quella creatura per tutta una giornata e forse per tutta la vita. Consolando Tania, Covrin pensò che oltre a questa fanciulla e dal padre di lei, su tutta la terra non c'era nessuno che lo amasse come si ama una persona affine e familiare. Se non ci fossero state queste due persone, forse egli, perduti il padre e la madre nella prima fanciullezza, fino alla morte non avrebbe conosciuto che cosa sia una carezza sincera. Quell'amore ingenuo, irriflessivo che si nutre solo per le persone molto prossime, legate a noi dal sangue. Ed egli sentiva che ai suoi nervi semi malati, esauriti, come ferro alla calamita, rispondevano ai nervi di questa fanciulla piangente e rabbrividente. Egli non avrebbe potuto mai amare una donna sana, forte, dalle gote rosse, ma gli piaceva la pallida, debole e infelice Tania. E volentieri le accarezzava i capelli e le spalle, le stringeva leggermente la mano e le asciugava le lacrime. Alla fine ella cessò di piangere, si lamentò ancora a lungo del padre e della sua vita pesante e insopportabile in questa casa, scongiurando Covrin di mettersi nella sua posizione. Poi a poco a poco cominciò a sorridere e sospirò che Dio le aveva dato un così cattivo carattere. Alla fine poi scoppiò a ridere, si diede della sciocca e corse fuori della camera. Quando, dopo aver aspettato un poco, Covrin uscì in giardino, Egol, Samienitz e Tania, come se niente fosse accaduto, passeggiavano a fianco a fianco nel viale, mangiando tutti e due con appetito pane di segala con sale. Soddisfatto di aver così bene espletata la parte di pacere, Covrin se ne andò nel parco. Mentre stava seduto su una panchina ed era immerso in pensieri, sentì un rumore di carrozze e delle risate femminili. Erano arrivati degli ospiti. Quando le ombre della sera cominciarono a distendersi sul giardino, si sentirono i suoni del violino e delle voci che cantavano. Tutto ciò gli richiamò alla memoria il monaco nero. Dove mai, in quale contrada o su quale pianeta si verificava adesso quella strana aberrazione ottica. Era appena ricordato della leggenda e nella sua immaginazione si era disegnata quella oscura visione che gli si era presentata nel campo di segala. Ed ecco che di dietro alpino, proprio di fronte a lui, impercettibilmente, senza il minimo fruscio, uscì un uomo di statura media, col capo canuto scoperto, tutto oscuro e a piedi nudi, simile a un mendicante, e sul cui viso pallido come quello di un morto spiccavano nettamente delle cilia nere. Facendo un cenno amichevole col capo, il mendicante o pellegrino, senza rumore, si avvicinò alla panchina e si sedette, e Covrin riconobbe in lui il monaco nero. Per un momento si guardarono, Covrin con meraviglia e il monaco teneramente, come anche allora, e un pochino furbescamente con l'espressione di chissà il fatto suo. Ma tu sei un miraggio, parlò per il primo Covrin, perché sei qui e stai fermo in un posto. Ciò non si accorda con la leggenda. Non ha importanza, rispose il monaco, dopo breve indugio, con voce piana volgendo il viso verso di lui. La leggenda, il miraggio e Dio, tutto ciò è il prodotto della tua immaginazione eccitata. Io sono una visione. Vuoi dire dunque che non esisti? domandò Covrin. Pensa come vuoi, disse il monaco e sorrise debolmente. Io esisto nella tua immaginazione, ma la tua immaginazione è una parte della natura. Vuol dire che io esisto anche nella natura. Hai un viso molto vecchio, intelligente ed espressivo al massimo grado, come se tu avessi vissuto più di mille anni, disse Covrin. Io non sapevo che la mia immaginazione fosse capace di produrre fenomeni simili. Ma perché mi guardi con tale entusiasmo? Ti piaccio? Sì, tu sei uno di quei pochi che con diritto si chiamano gli eletti del Signore. Tu servi la verità eterna, i tuoi pensieri, le tue intenzioni, la tua scienza meravigliosa e tutta la tua vita portano un suggello divino, poiché si sono consacrati a ciò che è ragionevole e bello, ossia ciò che è eterno. Tu hai detto la verità eterna, ma è forse accessibile agli uomini ed è necessaria la verità eterna, se non c'è la verità eterna. La verità eterna c'è, disse il monaco. Tu credi nell'immortalità degli uomini? Sì, certo. Un grande e luminoso futuro aspetta voi uomini. E quanto più grande sarà sulla terra il numero degli uomini come te, tanto più presto si realizzerà questo futuro. Senza di voi, servi di un principio superiore che vivete coscientemente e liberamente, l'umanità non avrebbe alcun valore. Sviluppandosi in un ordine naturale, essa aspetterebbe ancora a lungo la fine della sua storia terrena. Voi invece qualche millennio prima la porterete nel regno della verità eterna. E questo è il vostro alto merito. Voi incarnate la benedizione divina, che si è posata sulle genti. Ma qual è il fine della vita eterna? domandò Covrin. Come di ogni vita, il godimento. Il godimento vero è nella conoscenza, e la vita eterna fornisce fonti innumerevoli ed inesauribili per la conoscenza. In questo senso è detto, nella casa di mio padre sono molte dimore. Se tu sapessi com'è piacevole ascoltarti, disse Covrin fregandosi le mani per il piacere, me ne rallegro. Ma so che quando te ne andrai, mi tormenterà il problema della tua essenza. Tu sei un fantasma, un'allucinazione. Vuol dire che io sono malato, psichicamente. Che sono anormale. E se fosse così? Per che cosa ti sgomenti? Tu sei malato, perché hai lavorato oltre le tue forze e ti sei esaurito. E ciò vuol dire che tu hai sacrificato la tua salute all'idea. Ed è prossimo il tempo in cui le sacrificherai anche la vita. Che c'è di meglio? E ciò a cui tendono tutte le nature nobili che il cielo ha altamente dotate. Se io so che i miei nervi sono malati, posso credere a me stesso? E da che cosa arguisci che anche gli uomini geniali, nei quali crede tutto il mondo, non abbiano veduto delle chimere. Oggi, i dotti dicono che il genio è prossimo alla pazzia. Amico mio, sono sani e normali solo gli uomini mediocri e volgari. Le considerazioni relative alla malattia del secolo, l'esaurimento, la degenerazione, eccetera, possono agitare seriamente solo chi veda lo scopo della sua vita nel presente, cioè gli uomini che vivono come gregge. I romani dicevano, mense sana in corpore sano. Non è tutta verità quel che hanno detto i romani o i greci. La tensione dei nervi, l'esaltazione, l'estasi, tutto ciò che distingue i profeti, i poeti, i martiri per un'idea, dalla gente comune, è in contrasto col lato animale dell'uomo, cioè la salute fisica. Lo ripeto. Se vuoi essere sano e normale, va nel gregge. Trano, tu ripeti quello che spesso viene in mente anche a me, disse Covrin, come se tu avessi visti e ascoltati i miei pensieri più intimi. Ma non parliamo di me. Che cosa intendi tu per verità eterna? Il monaco non rispose. Covrin posò lo sguardo su di lui e non ne distinse più chiaramente il viso. I suoi lineamenti si annebbiavano e svanivano. Cominciarono a scomparire la testa, le mani, il suo tronco si fuse con la panca e con le ombre crepuscolari. Alla fine scomparve del tutto. L'allucinazione è finita, disse Covrin a se stesso, e rise. Peccato. Ritornò in casa allegro e contento. Quel poco che gli aveva detto il monaco nero non disingavo soltanto il suo amor proprio, ma tutta la sua natura, tutto il suo essere. Sapersi un eletto, servire la verità eterna, essere nelle fila di coloro che faranno l'umanità degna del regno di Dio, qualche migliaio di anni più presto, che libereranno cioè gli uomini da qualche migliaio di anni di lotta, di peccato e di sofferenza. Dare all'idea tutto. La giovinezza, la forza, la salute, essere pronto a morire per il bene generale. Quale alto felice destino. Gli tornarono alla memoria il suo passato puro, casto e forte, pieno di lavoro. Ricordò ciò che aveva imparato e che egli stesso insegnava agli altri e ne dedusse, e nelle parole del monaco non c'era esagerazione. Nel parco incontrò Tania. Voi qui, disse ella, noi vi stiamo cercando, cercando dappertutto. Ma che cosa avete? Aggiunse sorpresa guardando il suo viso illuminato dall'entusiasmo e i suoi occhi pieni di lacrime. Come siete strano, Andriuscia. Io sono contento, Tania, disse Covrin mettendole le mani sulle spalle. Sono più che contento, felice. Tania, mia cara Tania, voi siete una creatura immensamente simpatica. Mia cara Tania, io sono così felice, così felice. Le baciò con ardore tutte e due le mani e continuò. Proprio, orora, ho vissuto dei momenti luminosi, meravigliosi, ultraterreni. Ma non posso raccontarvi tutto perché voi mi chiamereste pazzo e non mi credereste. Parleremo di voi, mia cara Tania. Io vi amo e sono già abituato ad amarvi. La vostra vicinanza e i nostri incontri che si ripetono dieci volte al giorno sono diventati una necessità per l'anima mia. Non so come potrò fare senza di voi quando andrò via di qui. Ma via, rispose Tania ridendo, vi dimenticherete di noi dopo due giorni. Noi siamo gente piccola, voi siete un grand'uomo. No, parliamo seriamente, disse egli. Io vi porto con me, Tania. Sì, verrete con me. Volete essere mia. Via, disse Tania, e voleva di nuovo ridere. Ma il riso non venne e il viso le si coprì di macchie rosse. Trasse forte il respiro e andò avanti, non verso casa ma oltre, nel parco. Io non pensavo a questo, non ci pensavo, diceva torcendosi le mani come disperata. Ma Covrin la seguì e le disse sempre con lo stesso viso luminoso, pieno d'entusiasmo. Io voglio un amore che si impadronisca tutto di me. E questo amore soltanto voi, Tania, me lo potete dare. Io sono felice, felice. E l'era stordita. Si piegò, si ragomitolò in se stessa e parve improvvisamente invecchiata di dieci anni. Ma egli la trovò bella ed espresse ad alta voce il suo entusiasmo. Com'è bella! Saputo da Covrin che non solo il romanzo era bene avviato, ma che ci sarebbero state le nozze, Egor Semienic andò a lungo su e giù, da un angolo all'altro della camera, sforzandosi di nascondere la propria commozione. Le mani gli tremavano, il collo gli si gonfiava e diventava purpureo. Egli ordinò di attaccare la vettura e di andare in un posto qualsiasi. Tania, veduto come gli frustava i cavalli e come si tirava giù il berretto, quasi fino agli orecchi, comprese il suo umore. Si chiuse in camera e pianse tutto il giorno. Nelle serre erano già maturate le pesche e le prugne. L'imballaggio e la spedizione per mosca, di questa merce delicata e capricciosa, richiedeva molta attenzione, fatica e cure. Poiché l'estate era molto calda e asciutta, bisognava annaffiare gli alberi ad uno ad uno, operazione che assorbiva molto tempo e lavoro. Inoltre, sugli alberi era comparsa una gran quantità di bruchi che gli operai e perfino Egor Semienic e Tania, con grande disgusto di covering, schiacciavano semplicemente con le dita. Oltre a tutto questo, era necessario prendere le ordinazioni di frutta e di alberi per l'autunno e tenere una grande corrispondenza. E nel momento culminante, quando sembrava che non ci fosse un momento libero per nessuno, cominciarono i lavori dei campi, che tolsero al giardino più della metà degli operai. Egor Semienic, tutto bruciato dal sole, stanco morto e irritato, saltava ora nel giardino, ora nel campo, e gridava che si sentiva dilaniare che si sarebbe piantata una palla nella testa. E come se non bastasse il trambusto per la preparazione del corredo, al quale Pesocchi dava grande importanza. Dal tintinio delle forbici allo strepito delle macchine da cucire, dall'odore dei ferri da stirare ai capricci della modista, una signora nervosa, permalosa, a tutti in casa girava la testa. E come a farlo apposta, ogni giorno venivano degli ospiti, e bisognava trattenerli, dar loro da mangiare e perfino preparare loro da dormire. Ma tutta questa vita da galera passava come in una nebbia. Tania si sentiva come se l'amore e la felicità l'avessero colta impreparata, sebbene già da 14 anni fosse convinta, chissà perché, che Kovrin avrebbe sposato proprio lei. Era sballordita, perplessa, non credeva a se stessa. Ora all'improvviso irrompe in lei una tale gioia che vorrebbe sollevarsi al di sopra delle nuvole per pregare Dio. Ora improvvisamente si ricorda che nel mese di agosto bisognerà separarsi dal nido nativo e lasciare il padre. Oppure, Dio sa di dove le viene il pensiero di essere una cosa da nulla, meschina e indegna di un uomo così grande come Kovrin, e allora se ne scappa in camera sua, si chiude a chiave e piange amaramente, per ore intere. Quando ci sono degli ospiti, ad un tratto le sembra che Kovrin sia straordinariamente bello e che tutte le donne siano innamorate di lui ed invidiose di lei, e l'anima le si gonfia d'entusiasmo e di superbia, come se avesse vinto tutto il mondo. Ma basta che egli sorrida con benevolenza ad una qualunque signorina, ed ella trema dalla gelosia e se ne va, e ancora lacrime. Questi nuovi sentimenti si impadronirono di lei del tutto. Aiutava il padre come un automa, e non osservava né le pesche né i bruchi, né gli operai, né si accorgeva come il tempo scorreva rapidamente. A Igor Semienic succedeva quasi lo stesso. Lavorava dal mattino fino alla notte, si affrettava sempre senza meta, irritandosi, e tutto come se fosse in uno stato di dormiveglia magico. Era come se ora in lui fossero due uomini. Uno era il vecchio Igor Semienic, che ascoltando il giardiniere Ivan Karlic, il quale gli riferiva sul disordine del giardino, si indignava e disperato si afferrava alla testa, e l'altro il non vero, quasi brillo, che improvvisamente con la parola a mezzo interrompeva un discorso d'affari. Batteva sulla spalla al giardiniere e cominciava a borbottare. «Di quello che vuoi, ma il sangue conta molto». Sua madre era una donna meravigliosa, nobilissima, intelligentissima. Era un godimento guardare il suo viso buono, sereno, puro, come quello di un angelo. Disegnava magnificamente, scriveva versi, parlava cinque lingue straniere, cantava. «Poverina, Dio l'abbia in gloria. È morta tisica». Il non vero Igor Semienic sospirava e dopo un momento di silenzio continuava. «Quando era ragazzino e cresceva qui da me, aveva una faccia angelica, serena e buona. Aveva uno sguardo, dei movimenti e un modo di parlare delicato ed elegante, come la madre. E l'intelligenza. Ci sorplendeva sempre con la sua intelligenza. «Bisogna anche dirlo. Non per nulla, professore. E aspetta, cosa sarà fra dieci anni? Non ti potrai nemmeno accostare a lui». Ma a questo punto il vero Igor Semienic è tornato in sé. Faceva un viso terribile. Si prendeva la testa fra le mani e cominciava a gridare «Diavoli! Hanno guastato tutto, insudiciato tutto, lasciato gelare tutto, hanno rovinato il giardino, l'hanno distrutto». Coffrin lavorava con la stessa intensità di prima e non notava il trambusto. L'amore non faceva che aggiungere olio al fuoco. Dopo ogni convegno con Tania, felice, entusiasta, se ne tornava in camera e con quella stessa passione con cui allora allora aveva baciato Tania e le aveva parlato d'amore, prendeva un libro o un manoscritto. Quello che il monaco nero aveva detto degli eletti del Signore, della verità eterna, dell'avvenire brillante dell'umanità, eccetera, dava al suo lavoro un significato particolare, straordinario, che riempiva la sua anima di orgoglio, della coscienza della propria elevatezza. Una o due volte la settimana nel parco o in casa, egli si incontrava col monaco nero e si intratteneva con lui a lungo, e ciò non lo spaventava, ma anzi lo incantava, perché era già fortemente convinto che simili visioni si presentavano soltanto agli uomini eletti, eminenti, che si sono consacrati al servizio di un'idea. Una volta il monaco apparve all'ora del pranzo e si sedette in sala da pranzo vicino alla finestra, Covrin se ne rallegrò tutto e molto accortamente portò il discorso con Egor Semienic e Tania su degli argomenti che potessero interessare il monaco. Il nero ospite ascoltava e accennava amabilmente col capo, e anche Egor Semienic e Tania ascoltavano e sorridevano contenti, non sospettando che Covrin non parlava con loro, ma con la sua allucinazione. Quasi inavvertitamente arrivò il digiuno dell'assunzione, e subito dopo il giorno delle nozze, che, per espresso desiderio di Egor Semienic, furono festeggiate con un fracasso, cioè con una baldoria folle, prolungatasi per 48 ore. Mangiarono e bevettero per 3.000 rubli, ma a causa della cattiva orchestrina, dei brindisi urlati a squarciagola, a causa delle corse dei servitori, del chiasso e della folla, non fu apprezzata la finezza né dei vini predibati né degli antipasti meravigliosi fatti venire da Mosca. Una volta, e in una lunga notte d'inverno, Covrin stava a letto e leggeva un romanzo francese. La povera Tania, che la sera soffriva di mal di capo, non essendo avvezza alla vita di città. Dormiva già da un pezzetto e di quando in quando, nel sonno agitato, pronunciava qualche frase sconnessa. Suonarono le tre. Covrin spense la candela e si coricò. Rimase lungo, con gli occhi chiusi, ma non poté dormire perché, così gli sembrava, nella camera da letto faceva molto caldo e Tania vaneggiava. Alle quattro e mezzo riaccese la lampada e vide subito il monaco nero, che stava seduto sulla poltrona accanto al letto. Salute, disse il monaco, e dopo un momento di silenzio domandò. Ma che pensi adesso? Alla gloria, rispose Covrin. Nel romanzo francese che leggevo Aurora è descritto un uomo, un rovanedotto, che fa delle sciocchezze e si consuma nella nostalgia della gloria. Io non capisco questa nostalgia. Perché tu sei saggio. Tu ti comporti verso la gloria con la stessa indifferenza che hai per un giocattolo che non ti interessa. Sì, è così. La fama non ti sorride. Che c'è di lusinghiero o di piacevole o di edificante? Nel fatto che il tuo nome sia inciso sul monumento funebre e poi il tempo cancelli questa iscrizione insieme con l'adoratura. Sì, e fortunatamente siete troppi, perché la debole memoria dell'uomo possa ricordare i vostri nomi. Si capisce, approvò Covrin. E poi a che scopo ricordarli? Ma parliamo di qualche altra cosa, per esempio della felicità. Che cos'è la felicità? Quando suonarono le cinque, egli era seduto sul letto, con le gambe penzoloni sul tappeto e diceva, volgendosi al monaco. Negli antichi tempi, un uomo felice alla fin fine si spaventò della propria felicità. Tanto essa era grande. E per conciliarsi gli dèi, sacrificò loro il suo anello preferito. Sai, anch'io, come Policrate, cominciò ad essere un po' inquieto della mia felicità. Mi sembra strano che dalla mattina alla sera io provi una sola continua gioia, che mi riempie tutto di sé e mi ottunde tutti gli altri sentimenti. Non so che cosa sia la tristezza, la malinconia o la noia. Ecco, io non dormo, ho l'insonnia, ma non mi annoio. Parlo seriamente, sono perplesso. Ma perché, chiese sorpreso il monaco, che forse la gioia è un sentimento soprannaturale, che forse essa non deve formare la condizione normale dell'uomo? Quanto più l'uomo si innalza per il suo sviluppo intellettuale e morale, tanto più è libero, tanto maggiore piacere gli dà la vita. Socrate, Diogene e Marco Aurelio provarono la gioia, e non la tristezza. E l'apostolo dice, siate sempre in letizia, sii sempre lieto e sii felice. E se ad un tratto gli dèi si addirassero, scherzò Covrin, e rise, se mi togliessero ogni comodità e mi costringessero a soffrire il freddo e la fame, ciò difficilmente sarebbe di mio gusto. Nel frattempo Tania si era svegliata, e guardava il marito sorpresa e spaventata. Gli parlava, si volgeva verso la poltrona, gesticolava e rideva. I suoi occhi erano lucidi, e nel suo riso c'era qualche cosa di strano. «Andriuscia, con chi parli?» domandò Tania, ferrandolo per la mano che egli tendeva verso il monaco. «Andriuscia, con chi parli?» «Con chi?» fece Covrin imbarazzato. «Con lui, vedi? E là, seduto», aggiunse accennando al monaco nero. «Ma qui non c'è nessuno, non c'è nessuno, Andriuscia, tu sei malato.» Tania abbracciò il marito e si strinse lui, come per difenderlo dalle visioni, e gli chiuse gli occhi con la mano. «Tu sei malato?» si inghiozzò, tremando per tutto il corpo. «Perdonami, caro, ma io avevo già notato da molto tempo che qualche cosa ti sconvolge. Il tuo spirito è malato, Andriuscia?» Il suo tremore si comunicò anche a Covrin, e gli guardò ancora una volta verso la poltrona, che era già vuota. Sentì di improvviso una grande debolezza alle mani e alle gambe, si spaventò e cominciò a vestirsi. «Non è niente, Tania, non è niente», mormorava tremando. «Infatti sono un po' malato», è tempo di confessarlo. «Io l'avevo già notato da molto tempo, e anche papà l'aveva notato», disse Tania sforzandosi di soffocare i singhiozzi. «Tu parli con te stesso? Sorridi così stranamente? Non dormi?» «Dio mio, Dio mio, salvaci tu», continuò disperata. «Ma tu non aver paura, Andriuscia, non aver paura, in nome di Dio, non aver paura!» Anche ella cominciò a vestirsi. Solo adesso, guardando Tania, Covrin comprese tutto il pericolo del suo stato. Comprese cosa significassero il monaco nero e i suoi colloqui con lui. Adesso gli fu chiaro che era pazzo. Tutti e due, senza saperne essi stessi il perché, si vestirono e uscirono nel salone. Ella avanti e gli dietro di lei. Nel salone, svegliato dai singhiozzi di Tania, in veste da camera e con la candela in mano, tava Igor Semienic, che in quei giorni era loro ospite. «Non aver paura, Andriuscia», diceva Tania, tremando come se avesse la febbre. «Non aver paura! Papà, tutto passerà, tutto passerà!» Covrin non poteva parlare per lo stato di agitazione in cui si trovava. Voleva dire al suocero, in tono scherzoso, «Congratulatevi con me, sono diventato pazzo, a quanto pare!» Ma mosse appena le labbra e sorrise con un sorriso amaro. Alle dieci della mattina gli fecero indossare la pelliccia, lo avvolsero in uno scialle e in una carrozza chiusa lo condussero dal dottore. Cominciò a curarsi. Ritornò all'estate e il dottore prescrisse di andare in campagna. Covrin, se era già rimesso, aveva cessato di vedere il monaco nero e non gli restava che aumentare le sue forze fisiche. Vivendo dal suocero in campagna, bevette molto latte, lavorò soltanto due ore al giorno, non bevette vino e non fumò. Alla vigilia del giorno di Sant'Elia furono celebrati in casa i Vespri. Quando il sagrestano porse al prete l'incensiere che diffuse nel gran salone antico un odore come di cimitero, Covrin sentì la malinconia impadronirsi del suo animo. Se ne uscì in giardino, senza fare attenzione ai fiori lussureggianti, passeggiò su e giù per il giardino. Si sedette su una panca, poi passeggiò per il parco. Arrivato al fiume scese giù e rimase lì sovra pensiero, guardando l'acqua. I pini tetri con le ladici pelose, che l'anno prima lo avevano veduto qui così giovane, felice e ardito, ora non sussurravano fra loro, ma rimanevano immobili e muti, come se non lo riconoscessero. E infatti sulla sua testa non c'erano più i lunghi e bei capelli dall'ora. La sua andatura era fiacca, il viso, in confronto dell'estate precedente, era più grasso e più pallido. Sui pezzi di lava passò sull'altra riva. Là, dove l'anno prima erano i campi di Segala, c'era dell'avena già falciata. Il sole era già tramontato. Al limite estremo dell'orizzonte fiammeggiava una grande striscia rossa, che preannunciava per l'indomani un tempo ventoso. Era una gran pace. Covrin rimase una ventina di minuti, guardando fisso nella direzione in cui l'anno prima gli era apparso la prima volta il monaco nero. Fino a che non cominciò a scendere il crepuscolo della sera. Quando Fiacco, insoddisfatto, ritornò a casa, i vespri erano terminati. Egors e Mieni, Cetania, sedevano sui gradini della terrazza e bevevano il tè. Parlavano fra loro, ma vedendo Covrin, improvvisamente ammutolirano. Egli arguì dai loro visi che dovevano avere parlato di lui. «E' già ora di prendere il latte», disse Tania al marito. «No, non è ora», rispose egli, sedendosi sul gradino più basso. «Bevi tu. Io non ne ho voglia». Tania guardò inquieta il padre e soggiunse con un tono di voce quasi cercasse una scusa. «Tu stesso hai notato che il latte ti fa bene». «Sì, molto bene», e Covrin sorrise. «Me ne strinse la testa fra le mani e continuò con tristezza. Perché? Perché mi avete curato? Preparati di bromuro, ozio, bagni caldi, una continua sorveglianza, la paura meschina ad ogni sorso, ad ogni passo. Tutto ciò, alla fin fine, mi porterà all'idiotismo. Io diventavo pazzo, avevo la mania della grandezza. Ma in compenso ero allegro, ardito e perfino felice, ero interessante ed originale. Adesso sono diventato più giudizioso e più posato, ma in compenso sono come tutti gli altri. Sono una mediocrità, mi annoio di vivere. O, se vi siete comportati crudelmente verso di me. Io avevo delle allucinazioni, ma a chi dava fastidio? Vi domando a chi dava fastidio? Dio sa, quel che vai dicendo, sospirò Igor Semienic. È triste perfino starti a sentire. E voi non ascoltatemi. La presenza di gente, specialmente di Igor Semienic, irritava adesso Kovrin, che gli rispondeva seccatamente, freddamente e perfino rudemente guardandolo con ironia e odio, ed Igor Semienic si confondeva e tossiva invece di rispondere, quasi fosse colpevole, sebbene in se stesso non si sentisse colpevole di nulla. Non comprendendo perché così aspramente si fossero mutati i loro rapporti, prima così affettuosi e cordiali, Tania si stringeva al padre e lo guardava negli occhi con inquietudine. Voleva capire e non poteva. Era chiaro soltanto che i rapporti si facevano ogni giorno pezzori, che il padre negli ultimi tempi era molto invecchiato e il marito si era fatto eccitabile, capriccioso, attaccabrighe e non interessante. Ella non poteva più ridere e cantare. A pranzo non mangiava nulla, non dormiva per intere notti, aspettando qualche cosa di terribile, e tanto si logorava che una volta rimase priva di sensi dall'ora del pranzo fino alla sera. Era sembrato che la sera dei vespri il padre avesse pianto, e adesso, mentre sedevano tutti e tre insieme sulla terrazza, doveva far grandi sforzi per non pensarci. Come furono felici Buddha e Mahometto e Shakespeare che i loro buoni parenti e i dottori non curarono delle loro estasi o delle loro ispirazioni, diceva Covrin. Se Mahometto avesse preso del brumuro contro i nervi, avesse lavorato soltanto due ore al giorno e bevuto del latte, di questo buomo eminente sarebbe rimasto tanto poco quanto del suo cane. I dottori e i buoni parenti alla fin fine fanno sì che l'umanità diventi ottusa, la mediocrità si consideri genio e la civiltà vada in rovina. Se voi sapeste, continuò con rabbia, quanto io vi sono grato. Si sentiva fortemente irritato, e per non dir cose superflue si alzò in fretta e rientrò in casa. Tutto era tranquillo, e dalle finestre aperte veniva dal giardino l'aroma del tabacco e del gelsomino. Nel grande sole oscuro sul pavimento e sul pianoforte, la luce della luna gettava delle macchie verdi. A Covrin ritornò in mente l'entusiasmo dell'estate passata, quando pure si sentiva l'odore del gelsomino, e la luce della luna entrava dalle finestre. Per richiamare lo stato d'animo di allora, egli entrò rapidamente nello studio, accese un forte sigaro e ordinò al servo di portargli del vino. Ma il sigaro gli diede un senso amaro di disgusto, e il vino non gli sembrò dello stesso gusto dell'anno prima. Cosa vuol dire perdere l'abitudine? Il sigaro e due sorsi di vino gli fecero girare il capo, e il cuore cominciò a battere così forte che gli fu necessario prendere del bromuro. Prima di andare a letto, Tania gli disse, «Papà ti adora, tu sai incollere con lui, non so per che cosa, e ciò lo uccide. Guardalo, non invecchia a giorni, ma ad ore. Ti scongiuro, Andriuscia, in nome di Dio, in nome di tuo padre morto, in nome della mia pace, sii buono con lui. Non posso e non voglio». «Ma perché?» domandò Tania, cominciando a tremare in tutto il corpo. «Spiegalo anche a me, perché?» «Perché non mi è simpatico, ecco tutto», disse Covrin con non curanza, e si strinse nelle spalle. «Ma non parliamo di lui, è tuo padre». «Non posso, non posso capire», continuò Tania premendosi le tempie e guardando fissa in un punto. «In casa succede qualche cosa di incomprensibile, di terribile. Tu sei cambiato, non sei più quello di prima. Tu, un uomo intelligente, non comune, ti irriti per dei non nulla e ti mischi nelle più meschine questioni. Ti agitano delle sciocchezze tali che talvolta io stesso me ne meraviglio e non lo credo. Sei tu, questo. Via, via, non ti inquietare», continuò spaventata delle sue stesse parole e baciandogli le mani. «Tu sei intelligente, buono, nobile. Tu sarai giusto con papà, è così buono». «Egli non è buono, ma bonario. Gli ziucci da farsa della specie di tuo padre, con le loro fisionomie bonarie e satolle, tra ordinariamente ospitali e stravaganti, mi commuovevano un tempo e mi facevano ridere nelle novelle, nelle farse e nella vita, ma adesso mi disgustano. Sono egoisti fino al midollo delle ossa e più di tutto mi disgusta la loro aria di sazietà, il loro ottimismo di stomaco, puramente da bue o da cinghiale». Tania si sedette sul letto e appoggiò il capo sul guanciale. «È un martirio», disse, e si sentiva dalla sua voce che la sua spossatezza era già arrivata al massimo e che le pesava perfino di parlare. «Durante tutto l'inverno nemmeno un momento di pace. Terribile, mio Dio, io soffro. Sì, naturalmente, io sono erode, e tu e tuo padre dei bambini in Egitto, naturalmente». Il suo viso parve a Tania brutto e antipatico. L'odio e l'ironia non gli si confacevano. Ma anche prima ell'aveva notato che al viso di lui mancava già qualche cosa, come se da quando s'era tagliati i capelli il viso stesso fosse cambiato. Sentì il desiderio di dirgli qualche cosa di offensivo, ma si accorse subito di questo sentimento ostile, si spaventò e uscì dalla camera da letto. Covrin ottenne una cattedra indipendente. La prolusione era fissata per il 2 dicembre, come diceva l'annunzio affisso nel corridoio dell'università. Ma nel giorno stabilito egli informava con un telegramma l'ispettore degli studenti che non avrebbe tenuta la lezione a causa di malattia. Aveva cominciato a sputar sangue, anzi, gli accadeva un paio di volte al mese di avere degli sbocchi così abbondanti che lo lasciavano in uno stato di enorme debolezza, come di sonnolenza. La malattia non lo spaventava, perché sapeva che la madre aveva vissuto con lo stesso male dieci anni e più. I dottori assicuravano che non era pericoloso e consigliavano solo di non agitarsi, di condurre una vita regolare e di parlar meno. In gennaio le lezioni non cominciarono per la medesima ragione e in febbraio era già tardi per cominciare il corso. Si dovete rimandarlo all'anno prossimo. Egli non viveva più con Tania, ma con un'altra donna, che era due anni più anziana di lui e lo curava come fosse un bambino. Il suo amore era calmo, remissivo. Egli si sottometteva volentieri e, quando Barbara Nicolaevna, così si chiamava la sua compagna, decise di portarlo in Crimea, egli acconsentì, sebbene presentisse che da questo viaggio non sarebbe derivato niente di buono. Arrivarono la sera a Sebastopoli e si fermarono in un albergo per riposare e ripartire il giorno dopo per Rialta. Il viaggio li stancò tutti e due. Barbara Nicolaevna beve del tè, si mise a letto e ben presto si addormentò. Covrin invece non si coricò. Quando era ancora a casa, al momento della partenza per la stazione, aveva ricevuto una lettera da Tania e non si era deciso ad aprirla. L'aveva messa in una delle tasche, ed ora il pensiero di essa lo agitava sgradevolmente. Sinceramente, nel profondo dell'animo, considerava ora il suo matrimonio con Tania un errore, ed era contento di essersi separato da lei. Il ricordo di questa donna che alle fin fine si era mutata in una reliquia vivente e camminante, nella quale tutto ormai sembrava morto, esclusi i grandi occhi intelligenti che guardavano fissi, il ricordo di lei risvegliava in lui soltanto pietà e rabbia contro se stesso. La calligrafia sulla busta della lettera gli ricordò come due anni prima era stato ingiusto e crudele, come avesse vendicato su persone per nulla colpevoli la sua miseria spirituale, la sua noia e la sua solitudine e scontentezza della vita. Si ricordò a questo proposito che una volta aveva strappato in piccoli pezzetti una dissertazione e tutti gli articoli scritti nel periodo della malattia e li aveva buttati dalla finestra, e i pezzetti di carta portati dal vento si erano posati sugli alberi e sui fiori. In ogni riga gli era sembrato di vedere strane, infondate pretese, una non ponderata provocazione del pensiero, una impudenza, una smania di grandezza, e ciò aveva prodotto in lui tale impressione come se avesse letto la descrizione dei propri vizi. Quando l'ultimo quaderno era stato stracciato ed era volato via dalla finestra, egli si era sentito improvvisamente indispettito e amareggiato, era andato dalla moglie e le aveva detto una quantità di cose spiacevoli. Dio mio, come l'aveva tormentata! Una volta, volendo farle del male, ne aveva detto che suo padre aveva rappresentato nel loro romanzo una parte poco simpatica, poiché era stato lui a domandargli di sposare la figlia. Egor Semienic aveva sentito per caso. Si era precipitato nella stanza, non riuscendo nella disperazione a dire neppure una parola, e solo aveva pestato a lungo i piedi, fermo in un punto, muggendo stranamente come se avesse perduto il possesso della lingua, e Tania, dopo aver guardato il padre, aveva urlato con una voce lacerante ed era svenuta. Era stata una scena orribile. Tutto ciò gli ritornava alla memoria, vedendo la nota calligrafica. Uscì fuori sul balcone. Il tempo era calmo e caldo, e si sentiva l'odore del mare. La baia meravigliosa rispecchiava la luna ed i lumi, ed aveva un colore al quale è difficile trovare un nome. Era una fusione delicata e tenera di azzurro e di verde. In certi punti l'acqua aveva il colore azzurro del vetriolo, in altri sembrava che la luce della luna si condensasse, e invece dell'acqua riempisse la baia. Ma nel complesso, quale accordo di colori? Quale elevata intonazione di pace e di tranquillità? Al piano inferiore, sotto il balcone, le finestre probabilmente erano aperte perché si sentivano chiaramente delle voci e delle risate femminili. Ci doveva essere una serata. Covrin fece uno sforzo su se stesso. Aprì la lettera e, ritiratosi in camera, lesse. Orora è morto mio padre. Di ciò sono tenuta a te, perché tu l'hai ucciso. Il nostro giardino va in rovina. In esso spadroneggiano già degli estranei. Avviene, cioè, proprio quello che il mio povero padre temeva. Ti odio con tutta l'anima mia e ti auguro di finire al più presto. Oh, come soffro! La mia anima è divorata da un dolore insopportabile. Che tu sia maledetto. Io ti consideravo un uomo straordinario, un genio. Ti ho amato, ma ti sei dimostrato un pazzo. Covrin non poteva leggere oltre. Stracciò la lettera e la buttò via. Si impadroniva di lui un'inquietudine simile alla paura. Al di là del paravento, Barbara Nikolaevna dormiva e si sentiva il suo respiro. Dal piano di sotto venivano le voci e le risate femminili. Ma egli aveva come il senso di essere solo. Come se non ci fosse anima viva nell'albergo. Poiché era infelice, annientata dal dolore, Tania, nella sua lettera lo malediceva e desiderava la sua perdizione. Egli si sentì angosciato e lanciò un rapido sguardo alla porta, come temendo che entrasse nella sua camera e si impadronisse di lui la forza sconosciuta, che due anni prima aveva portato la distruzione nella vita sua e di chi gli era vicino. Egli sapeva già per esperienza che, quando i nervi sono eccitati, il migliore mezzo contro di essi è il lavoro. Bisogna sedersi al tavolo e costringere se stessi ad ogni costo a concentrarsi in qualche pensiero. Cacciò fuori dalla sua borsa rossa il quaderno dove aveva bozzato il piano di un piccolo lavoro di compilazione, preparato per il caso in cui in Crimea si fosse annoiato senza far niente. Si sedette al tavolo e si mise a lavorare intorno all'abbozzo. Gli sembrò che tornasse in lui il suo umore tranquillo, sereno e indifferente. Il quaderno col sommario portò addirittura il suo pensiero a riflettere sulla futilità del mondo. Pensò quanto prende la vita per quei meschini e insignificanti beni che essa può dare all'uomo. Per esempio, per avere sotto i quarant'anni la cattedra, essere un comune professore, esporre in una lingua fiacca, noiosa, pesante, i pensieri comuni e per di più altrui, in una parola per raggiungere la posizione di un mediocre scienziato. Egli aveva dovuto studiare quindici anni, lavorare giorno e notte, sopportare una grave malattia psichica, fare un matrimonio infelice e commettere tante sciocchezze e ingiustizie. Covrin vide adesso che era una mediocrità, ma facilmente ci conciliò con questa idea, perché secondo lui ogni uomo deve essere soddisfatto di ciò che è. Il suo sommario lo tranquillizzò del tutto, ma la lettera stracciata biancheggiava sul pavimento e gli impediva di concentrarsi. Si alzò, raccolse i pezzetti della lettera e li gettò dalla finestra, ma soffiava un leggero vento dal mare, e i pezzetti di carta si sparsero sul davanzale. Di nuovo si impadronì di lui un'inquietudine simile alla paura, e gli parve che in tutto l'albergo non ci fosse oltre di lui anima viva. Andò al balcone. Il golfo, come vivo, guardava verso di lui con una quantità di occhi azzurri, celesti, di turchese e di fuoco, e lo chiamava a sé. Faceva un caldo soffocante. Sarebbe stato tanto bello buttarsi nell'acqua. Improvvisamente al piano di sotto si sentì suonare un violino e cantare due delicate voci femminili. Era qualche cosa di già noto. Nella romanza si parlava di una fanciulla dall'immaginazione malata, che in un giardino di notte ascolta dei suoni misteriosi e pensa che deve essere un'armonia celeste incomprensibile a noi mortali. A Covrin si fermò il respiro, e il cuore gli si strinse per la tristezza, e quella gioia dolce e meravigliosa della quale si era dimenticato ormai da tanto tempo, tremò dentro il suo petto. Una grande colonna nera, simile a un turbine o a una trombe, comparve sull'altra riva del golfo. Con straordinaria rapidità attraversò il golfo in direzione dell'albergo. Diventò sempre più piccola e più oscura, e Covrin fece appena in tempo a gettarsi da un'altra parte per lasciarle libera la via. Il monaco con la testa canuta, scoperta e con le ciglia nere, scalzo, con le braccia incrociate sul petto, passò davanti a lui e si fermò nel mezzo della camera. «Perché non mi hai creduto?» domandò con tono di rimprovero, guardandolo carezzevolmente. «Se tu mi avessi creduto allora, che tu eri un genio, non avresti vissuto questi due anni così miseramente!» Covrin si vedeva di nuovo un eletto del Signore e un genio. Ricordò vivamente tutti i suoi passati dialoghi col monaco nero e avrebbe voluto parlare, ma il sangue gli sgorgò direttamente dalla gola sul petto. Senza sapere ciò che facesse, si passò le mani sul petto e i polsini gli si inzupparono di sangue. Vole chiamare vervara Nicolaievna che dormiva dietro il parvento, fece uno sforzo e pronunziò «Tania». Cadde a terra e sollevandosi sulle mani chiamò di nuovo «Tania». Chiamava «Tania». Chiamava il grande giardino dai fiori lussureggianti, aspersi di rugiada, chiamava il parco, i pini con le radici pelose, il campo di segala, la sua scienza meravigliosa, la sua giovinezza, la sua audacia, la sua gioia. Chiamava la vita, che era così bella. Vide sul grande pavimento vicino al suo viso una grande pozzanghera di sangue, e per la debolezza non pote dire nemmeno una parola, ma una felicità ineffabile, sconfinata, riempì tutto il suo essere. Giù sotto il balcone suonavano la serenata, e il monaco nero gli sussurrava che era un genio e che moriva solo perché il suo debole corpo umano aveva perduto l'equilibrio e non poteva più servire da involucro al genio. Quando Barbara Nicolaievna si svegliò e uscì da dietro il paravento, Kovrin era già morto e sul suo viso era irrigidito un sorriso di beatitudine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.